Musica Bentornati su Legomania il canale dedicato al mondo dei macconcini Lego questo sarà un video molto speciale per me e per tutti voi che mi seguono ormai da diverso tempo oggi è passato esattamente un anno dal primo video che ho pubblicato su questo canale era esattamente il 30 marzo 2020 e quest'anno ne abbiamo passate di avventure ne abbiamo passati di dubbi di incertezze di preoccupazioni ma ci sono stati anche momenti piacevoli tutti quei video che io ho fatto veramente con tutto il cuore per me ma soprattutto per voi per diciamo per non lasciarvi senza qualcosa da fare per intrattenervi in queste giornate anche perché ho iniziato la mia attività nel periodo del lockdown e quindi quest'anno è stato un altaleno di emozioni un anno di sicuro inaspettato ma non per questo deve essere dimenticato secondo me perché comunque io per me quest'anno comunque resterà impresso nella mia memoria soprattutto per il canale e anche per tutto quello che è successo chi se lo sarebbe potuto aspettare comunque oggi festeggiamo un anno esatto nel canale e a corpo due eventi molto particolari per il canale il primo è appunto l'anniversario il secondo è il benedetto speciale dei mille iscritti che mi ero ripromesso di fare e ora ho voglia di di accorpare di festeggiare tutti questi entrambi questi eventi entrambi gli eventi in un solo io veramente ringrazio di cuore tutti quelli che hanno continuato a seguire che mi hanno fatto diventare questo canale da sconosciuto a comunque una piccola comunità ringrazio veramente di cuore tutti i 1270 iscritti che mi che mi appoggiano che mi sostengono e che guardano i miei video io veramente sono contentissima sono sono usillato e sono sicuro di poter fare ancora di più quest'anno siamo anche cresciuti tantissimi anche io comunque con i video mi ricordo il primo che a confronto di quelli di ora non c'è neanche paravolo inizio registrato da telefono senza senza transizioni senza tagli quindi quello che mi ha fatto il primo che mi sa un po' così poi però è iniziata diciamo una scelta ho iniziato a procurarmi la videocamera ho iniziato a ad essere più tecnico preciso e ultimamente sto imparando anche a intrattenere ad accorciare la durata di video e grazie comunque per l'appoggio grazie perché nel bene e nel male siete stati fedeli al canale e questo mi fa tantissimo piacere mi fa piacere soprattutto dopo che avrete compreso anche il mio difetto peggiore che è quello della non costanza infatti io ci metto tantissimo tempo per pubblicare un video non sono molto veloce poi quando lo faccio subito non mi dimentico non riesco a ritrovare il ritmo e sono contento che comunque continuate a seguirmi e appoggiammi per quanto riguarda i miei iscritti io volevo fare una speciale riguardante un set d'ego e oggi diciamo è una preview perché mi leggo qua non c'è neanche non c'è neanche però c'è un un set in particolare molto grande che avrei dovuto portare molto prima sul canale l'avrei dovuto portare cinque mesi fa non l'ho fatto per un motivo o per un altro scusatemi questo lo vorrei fare fare considerare come uno speciale dei gli iscritti sto dicendo sono cresciuto tantissimo a livello di contenuti ultimamente ho imparato anche a montare i video come si deve ad aggiungere elementi anche simpatici poi ho recentemente cambiato con la videocamera che secondo me questa è stata la chiave di svolta per il canale secondo me la videocamera ha migliorato tantissimo l'esperienza e da quel momento il mio canale è cresciuto in maniera squalizzata perché fino a quel momento ne avevo 700 sono quasi duplicati ora siamo a 1270 è tutto da arrivare ancora più da io spero con tutto il cuore però per ora mi accontento di questo come si dice pochi ma buoni quindi sono molto felice di questo scusate se se possa essere uno speciale un po' scialpo senza eventi particolari solo con la mia voce che riguarda la situazione però ho cercato di fare qualcosa di semplice nelle prime anni quindi possiamo potete sicuramente aspettare cose migliori e ulteriore manifestazioni quindi ora si va per il 2000 iscritti per il prodotto 2000 fate esplodere il tasto ascriviti mi raccomando non vi voglio spoilerare quello che arriverà a tutti i giorni come come regalo tra me di voler come promessa vi faccio che cercare di dare i video con una costanza molto migliore vi auguro anche delle fantastiche matazze pasquali che possono essere una piccola distrazione per questo periodo un po' un po' così io vi ringrazio di cuore per questa crescita che mi hanno fatto fare ero partita all'inizio anche con una timidezza incredibile ora mi trovo qui e mi sembra intensabile rispetto un po' fino a mai ho cercato di mettermi in gioco e non potendo di sfruttare serva di mi voglio bene grazie per il suo porto e grazie per aver permesso tutto questo per aver fatto diventare un un ragazzo diciamo un canale nato praticamente per non per caso in modo particolare perché era nato soprattutto per una distrazione visto che è stato un periodo super buio quello del primo lockdown che mi sono sentito malissimo e ho cercato di trovare qualche passione qualche distrazione per passare le giornate nei prossimi giorni arriveranno video a caterve per recuperare tutto quello che ancora non ho non ho complicato e cercherò di pubblicare sempre il giorno in cui di caccia ora io ve l'ho detto questo video per forza deve essere girato giorno a tempo ne andrò più ne andrò meno né un eternità in più come è stato per altri set ho ancora da recuperare una quindicina di video più altri upload quindi ci sarà da divertirsi e di cose da fare sicuramente in queste vacanze pasquali non mancano di certo quindi vi ho parlato un po' della della mia crescita del modo in cui è cambiato il canale perché nel primo lockdown facciamo facciamo video soprattutto su set già montane già costruiti poi ho iniziato ad acquistare nuovi set ho iniziato a vedere l'apprezzamento da parte degli iscritti e poi ho continuato con altri set che ne ho ancora più di caldo cercherò di rendere più vari il canale quindi non solo con cose lego ma anche magari con nuovi idratenzi per voi ho ancora tanti set bellissimi da mostrarvi vi vorrei dare qualche piccolo indizio sono due set creator expert uno molto più piccolo e l'altro bello grande che sta per arrivare sul canale sfidato doveva essere pubblicato insieme a quello dei fossi di dinosauro perché è stato uno dei due regali per la terza e lo pubblicheremo tra qualche giorno giusto per dare qualche contenuto interessante visto che voi siete stati fantastici con un appoggio unico al mio canale e quindi io sono molto felice di ciò come altre passioni non lo so scrivetemelo sotto nei commenti anche perché io non so benissimo come interessa allora vi dico a priori che io sono un grandissimo amante di calcio sono anche tifoso della della Roma come squadra in serie A e quindi io seguo tutte le partite sono un grandissimo tifoso sono un amante dei gameplay mi piace tantissimo giocare video giochi con amici online non online modalità storia eccetera e sono un grandissimo amante anche di figurine quindi vedremo vedremo come come potrò gestire il canale tra qualche giorno penso qualche giorno giorno 23 arriverà il mio compleanno come è stato l'anno scorso sicuramente riceverò qualcosina credo vabbè credo credo proprio di sì e quindi sicuramente la la poster detto questo direi che per oggi può bastare è stato un video molto speciale è stato un video speciale per me e spero lo sia stato nel piccolo anche per voi perché potrebbe risultare una cosa da nulla però a me a me piace a me a me rende felice l'opera grandiosa che stiamo creando tutti in sé ovviamente mi piacerebbe sempre uno dei miei sogni sarebbe quello di di coltivare di far crescere tantissimo il mio canale per per essere molto più seguito e anche per portarvi contenuti sempre migliori sempre di qualità migliori sempre più innovativi e con migliori e anche migliori quantità sicuramente dunque io ho detto tutto quello che avevo da dire vi ringrazio tantissimo per aver permesso anche la realizzazione di questo video grazie anche per aver resistito fino a qui all'idea di avere uno speciale mili iscritti ma ancora il vero speciale dovrà diventare stato tranquillo che lo speciale lo speciale vero diciamo tra virgolette a rivero per adesso io vi ho fatto uno speciale per raccontarvi la mia situazione le mie le mie idee le mie motivazioni del canale e le mie sensazioni riguardo questi due eventi importantissimi quindi noi ci vediamo nei prossimi giorni con tantissimi video vi auguro a voi e le famiglie buone vacanze pasquali vi auguro di trasforerle in pace tranquillità e in famiglia in modo tranquillo in modo pacifico e senza esagerare mi raccomando noi ci vediamo qui al prossimo video con un contenuto spero spero corposo spero lego e quindi un saluto un bacione a tutti voi un bacione a tutti i 1270 iscritti del canale e quindi per oggi è tutto dal bosco lego un bacione a tutti Grazie a tutti.